Un anniversario non di poco conto, il 25esimo anno di attività del gruppo assicurativo della Porta Broker e CAFA. Gli amministratori Aniello della Porta e Ciro Sorrentino hanno voluto intorno a loro collaboratori, partner commerciali, mentre ai clienti viene fatto un apprezzato regalo, lo sconto del 50% sulla polizza RC Auto. Della Porta Broker e CAFA, infatti, hanno deciso di anticipare quanto previsto dal decreto legge sulla concorrenza per la responsabilità civile per le auto. Le novità introdotte dalla legge numero 124 riguardano l'applicazione di sconti obbligatori sulle polisse RC Auto a favore di chi si fa installare sulla vettura la scatola nera, lo strumento che serve a prevenire le frodi. Ulteriori sconti sono previsti per gli automobilisti virtuosi, che non provocano incidenti stradali da quattro anni e vivono nelle province con il tasso maggiore di sinistri, il sud Italia neanche a dirlo. Nata nel 2010, anno c'era inferiore dalla esperienza di CAFA, presente sul territorio dal 1992, Della Porta Broker oggi opera in tutta la Campania, con le sue sette sedi, con estensione anche nel Lazio. Inoltre Della Porta è il primo broker in Italia per Genertel, la compagnia assicurativa diretta di Generali Italia. Il 25esimo anniversario aziendale è stato festeggiato ieri sera al Teatro Diana, una scelta non a caso. Vuole essere infatti un gesto per coniugare la storia e il legame dell'azienda al territorio di provenienza. Noi che cosa abbiamo pensato di fare? Di anticipare un pochino i tempi per quanto riguarda le problematiche proprio insite in questo decreto legge, vale a dire cercando di far risparmiare soprattutto i clienti virtuosi nelle nostre zone che a detta di tutto sono le più tartassate a livello di premi assicurativi, premiando quei cittadini che guidano bene, non provocano sinistri e che giustamente non vediamo perché debbano poi pagare il doppio o il triplo addirittura dei premi di un concittadino, di un italiano che abita a Davosto, a Trieste o quant'altro. Quindi la nostra politica è stata quella di premiare questi automobilisti con delle scondizie a volte abbastanza eclatanti che addirittura arrivano al 50% della tariffa in vigore in quel momento. Era una cosa dovuta soprattutto perché noi nasciamo qua, sono 25 anni che stiamo qui e qui anche se abbiamo oltre 100 collaboratori in tutta la Campania, con sedi anche nel Lazio, quindi ci stiamo cercando nuove, noi chiediamo sempre nuove collaborazioni, cerchiamo nuovi collaboratori validi che possono portare quel know-how che a volte manca anche sui nostri territori. L'altro ve vede anche un primato, siete i primi in Italia per quanto riguarda Genertel che è la compagnia online. Sì, abbiamo avuto la fortuna di conoscere delle persone coraggiose in questo caso, che hanno fatto una scelta coraggiosa di puntare su di noi, di scommettere sulla nostra azienda, soprattutto sul lato umano e diciamo che sono stati ripagati con il nostro impegno, con il nostro lavoro e abbiamo effettivamente una bella collaborazione con questa compagnia online, Grazie. Grazie.